Domenico Rossi, coordinatore provinciale di Libera, vogliamo spiegare innanzitutto di cosa si tratta, che associazione è Libera? Libera è un'associazione che nasce nel 1995 su un'intuizione di Don Luigi Ciotti, che ha ereditato l'insegnamento dei grandi eroi della lotta alla mafia, si pensi al generale Colaberto della Chiesa, Paolo Borsellino, Gianni Falcone, che ci hanno lasciato un grande insegnamento. La lotta alla mafia non può essere solamente un'azione di natura repressiva, ma deve portare con sé inevitabilmente azioni culturali, sociali e politiche. In questo senso quindi Libera è un invito alla società civile a organizzarsi affinché queste questioni diventino prioritarie e concrete per ogni cittadino, per ogni gruppo e associazione di cittadini. A Novara anche questo tentativo lo stiamo facendo, lo stiamo facendo in maniera organizzata dal 2007, e quindi siamo al quarto anno di vita dell'associazione. A luglio è la prima festa nazionale di Libera che ospiterà il secondo raduno nazionale dei giovani di Libera. Libera crede fortissimamente nel ruolo dei giovani, nel potismo giovanile, in quella che è la costruzione di una realtà alternativa alle mafie, ben descritta nella nostra Costituzione. Questa festa, il secondo raduno appunto dei giovani nazionali di Libera, si terrà a Firenze a luglio, dal 16 al 23 luglio. È possibile prendere tutte le informazioni e anche iscriversi, vi invito a partecipare, sul sito di Libera Nazionale www.libera.it. www.libera.it.it